Ciao a tutti ragazzi e bentornati a capire Tobi, sono sempre il vostro Merch e oggi siamo in un nuovo spacchettamento di Yu-Gi-Oh! ragazzi E' uscita la nuova collezione Potere del Duello Ragazzi, prima di andare ad analizzare e capire cos'è perché è appena arrivata, quindi non so neanche cosa sia Vi ricordo che saremmo in due fiere diverse in due settimane di fila, ovvero Modena Play il 5, 6, 7 e il Torino Comics il 12, 13, 14 Porteremo tutti i prodotti Yu-Gi-Oh! Pokémon e non so se Magic, questo non so dirvelo sinceramente Mi raccomando portate anche le carte a scambio, ritiriamo anche le carte di Yu-Gi-Oh! Quindi portate anche le carte di Yu-Gi-Oh! ragazzi se per caso le avete e non sapete cosa farvene Portatele che vi diamo una controllata, quindi mi raccomando non mancate Dato ciò direi subito di andare a vedere questo potere del duello, ma prima sigla Ok raga, potere del duello In teoria è un extra, come se fosse un extra collection E cosa abbiamo qua davanti? Abbiamo un mago nero, un Neos, un Draco Poi di Stelle, 39, numero 39 Draco Poi in due marchi diversi e un decodificatore In teoria sono le stesse card con gli stessi effetti ma con artwork completamente diverse E devo dire che queste artwork sono molto più fighe, veramente molto più belle Andiamo a vedere cosa c'è dietro E la cosa contiene Abbiamo un tappetino da gioco deluxe a due facciate per confezione Quindi abbiamo davanti questo, dietro questo, viceversa Non male, in teoria il tappetino è quello di cartonato brutto Poi abbiamo sei buste di il potere del duello per confezione Cinque ultra rare busta Quindi abbiamo cinque ultra rare per busta Finalmente compatibile con tutte le carte che possiedi già Vabbè ok, che si possono Sei carte variant ultra rare illustrate con alternativa per confezione Vabbè, illustrati con alternativa Ok, ci sta, figo Molto bello ragazzi, adesso bisogna andare ad aprire Oh, ce la facciamo? Non riesco da più, ragazzi, aspettate Ok È strana come confezione, ci sta di brutto ragazzi Allora, andiamo ad aprirla Andiamo a sollevarla Perfetto, abbiamo Questo che è il tappetino Allora, ultimamente li stanno facendo abbastanza bene questi tappetini Eccolo qua Guardate che bello E poi abbiamo la versione dietro con tutte le zone Trattato questo è il nuovo tappetino che ha addirittura l'extra zone Quelle da poter evocare i link Bello, devo dire che è molto bello Ovviamente è incartonato ragazzi, quindi non è una cosa assai bella da vedersi Ma è una cosa assai bella come tenere sulla casa e teneremo lì a marcire Poi abbiamo le nostre 5 bustline come ci è stato detto nella descrizione E poi abbiamo le nostre 6 carte diverse che adesso andremo ad analizzarle Allora, andiamo ad aprirlo Perfetto, come primo abbiamo un bellissimo mago nero 7 stelle, oscurità come al solito, incantatore, tipo normale Il più potente tra i maghi per abilità offensiva e difensiva 2005 attacco e 2001 La sigla è addirittura DUPO DUPO Fa abbastanza ridere Poi cosa abbiamo? Neos e roe elementale 7 stelle anche questo Tipo luce Guerriero normale Un nuovo roe elementale arriva nel neospazio Quando inizia la fusione di contatto con un neospazio I suoi poteri sconosciuti vengono scatenati Ora ragazzi io faccio fatica a leggere perché non ci vedo niente da telecamera Però quando andate a montare e vedo il video si legge benissimo Quindi sembra che sono io mongolo che non so leggere Ok Ci può anche stare però Cavolo Ma che palle Ok Vabbè è il 2005 attacco e il 2000 di difesa Drago polvere di stelle ragazzi Questa quant'è stelle ha? 3, 3, 6, 7, 8 stelle Ottimo che figo Cioè questo è veramente molto più bello Sicuramente molto più figo Drago sincro effetto Un tunnel più un mostro con un tunnel 2005 di attacco 2000 di difesa Vabbè non sto neanche a leggervi l'effetto perché sicuramente Non lo voglia O lo leggiamo Dai Quando hai attivato una carta o un effetto Che sia per distruggere una carta sul terreno Effetto rapido Puoi offrire come trovo questa carta Annulla attivazione Se lo fai distruggila Durante l'end pass Se questo effetto è stato attivato in questo turno E non è stato annullato Puoi evocare specialmente questa carta dal tuo cimitero Quindi Mane dal cimitero per annullare poi ritorna Come al solito Il tipico effetto principale del drago popoli stelle Poi abbiamo il numero 39 utopia Queste immagini tra l'altro Sono prese Secondo me sono prese quelle del cartone animato Che i cartoni animato sono diverse rispetto a quelle delle carte Infatti secondo me è questo quale evocazione quando lo evoca nel cartone animato Il numero 39 utopia tipo luce 4 stelle Guerriero Xyz Effetto Due mossi livello 4 Quando un mostro dichiara un attacco Puoi staccare un materiale a questa carta Annulla l'attacco Se questa carta viene scelta come bersaglio per un attacco Mentre non hai nessun materiale Questa carta Distruggi questa carta Ok questo effetto non me lo ricordavo Vi dico la verità Ed eccolo qua Drago Pendulum anche diversi Io il Pendulum ragazzi non l'ho mai capito come funziona 3-3-6-7 stelle Drago Pendulum effetto 2-5 attacco 2-mila Se questa carta combatte con un mostro di avversario Qualsiasi danno a combattimento da questa carta infligge Il tuo avversario viene raddoppiato Beh Tanta roba ragazzi E poi qui abbiamo decodificatore trasmittente Il nostro bellissimo primo link uscito Che si giocava veramente tanto Perché era abbastanza forte 2-3 attacco Link Sai verso Link Effetto 2 mostri con attacco 1-5 attacco Per ogni mostro che è A cui punta Questo è il tuo avversario Attiva una carta Un effetto Scegli con un versaglio 1 o più carte controllate Effetto rapido Puoi offrire come tributo Un mostro puntato da questa carta Nulla attivazione Distruggi quella carta Molto forte Si pompa Praticamente se ne avete 2 Sono già 3.3 Togliete 1 Perdete 500 Poi distruggete praticamente tutte Tutto Ok ragazzi Queste erano le 6 famose carte Che trovate in ogni collezione Andiamo a aprire queste carte Vediamo cosa ci regalano Abbiamo Pescata del fato Una ultra Incontro di gabbia Gouki Un'altra ultra Per la pianta Offride scorpione Ultra Decodificazione Distruzione Un'altra ultra Anima immortale Un'altra ultra Allora Secondo me ci potrebbero essere 5 ultra Se vi va male E 4 ultra E una secret Se vi va bene Forse Andiamo a dare un'occhiata Esplosione doppia Magica oscura Necros di Causolas Questa è una carta in giocata Specchio Necros Pescata brillante E Oddio Fioritura di cenere Hanno rifatto Ratturito di cenere Ultra Ok raga Ok Senza senso Drago impulso Ma che figo è Bellissimo Drago impulso Mambola Mambola costrutto Allora Abbiamo già visto questa Attacco doppio eroe Scambiatore tattico E Bella fantasma E Miniera infestata Maniera infestata Boh Ma che vuol dire Vabbè Va bene Ragazzi Sono un sacco di carte Alcune sono vecche Alcune sono nuove Magari sono Oddio Cavaliere oscuro Ma che figo è Oddio Mago nero Che un mostro guerriero Che figo Cioè adesso c'è il mago Il cavaliere oscuro Che è pure il mago Come il cavaliere gaia Era praticamente Oddio che figo Circo Ma un mago nero È classico Forma del caos Oh Congenio Ma che cosa Congenio Dora Con il mio agento Ma no ragazzi Non è fatto apposta È impossibile Che sia una cosa Fatta apposta Pensa scherzo Quanto partono Tutte ultra Le hanno messe tutte ultra Orco fantasma Cambio tattiche Lascia ora doppia Fusione miracolo E anime mortale Ancora Raga Ultimo pack Che vuoi passare Un piccolo Accinto Tutto quello Che abbiamo trovato Che si può trovare Oddio Numero 39 Doppia utopia Ma che è Che figo Oddio che bello Ma sembra Gesù Ma è troppo figo Questa immagine Un nuovo numero Ragazzi all'interno Soldato galattico Ragazza Maga nera Trocidemone E' vero Vai Vion Ero Vision Vabbè ragazzi Mi si è morta La telecamera In alto Ragazzi Questa è un nuovo Utopia Cioè veramente figo Bello bello Da matti Ok ragazzi Che dire Questo era tutto Quello che si trovava Abbiamo le sei carte Da artwork Diverse Tanta roba Sono molto belle Devo dire Molto belle Abbiamo addirittura Un nuovo numero Nell'espansione E tantissime Fioriture Cose strane Quindi mi raccomando Scrivetevi E noi ci vediamo Al prossimo video Beh ragazzi